Entro Natale comincerà l'iter giudiziario per appurare i proventi della sosta a pagamento a San Giovanni Rotondo. Lo annuncia il sindaco Luigi Pompilio, dopo le polemiche scaturite dal licenziamento dei 36 parcheggiatori della ditta Centra, ormai ex gestore dei pedaggi nella città di Sampio. La ditta ha tagliato il personale denunciando l'eccessiva onerosità del servizio, a fronte di guadagni ritenuti insufficienti a coprire i costi. Una vicenda caratterizzata anche da esposti anonimi, come quello che denuncia la presunta sparizione di 107 mila euro di proventi del parcheggio multipiano, che ha indotto il consigliere comunale d'opposizione Massimo Chiumento a presentare una denuncia ai carabinieri. Intanto il tribunale di Foggia ha fissato per il 16 dicembre l'affidamento dell'incarico al perito, che dovrà accertare la reale situazione economica della Centra, dopo la rescissione in dolo del contratto decisa dalla giunta cittadina. Vogliamo sgombrare tutte queste ombre, queste dicerie, queste cose, che in una situazione complessa dove ci sono anche tanti drammi di famiglie che sono rimaste a casa, è chiaro che si montano tutta una serie di speculazioni.